eccomi qua per la prima volta su una bici da viaggio dai che benagurante per la partenza ci incontriamo il bellino ed azio bici che inizia il mio viaggio oggi andiamo a raggiungere gli amici di fiab a spoleto tanti auguri grazie viaggio fai il bravo non bere troppo e pedala ciao caro ci vediamo al ritorno vediamo questa bellissima sarley passiamo a salutarvi a paolo il primo tratto ce lo facciamo in treno per modalità d'altronde sarà il futuro del trasporto vorremmo sopravvivere cresce infatti il numero di coloro che viaggiano in bicicletta e usano il treno per gli spostamenti più lunghi cresce anche il numero di chi invece ci viene al lavoro da fuori regione e usa la bicicletta per fare gli ultimi metri dalla stazione al proprio ufficio è arrivato backstage questo è il bauletto dove c'è tutta la regia e ne abbiamo un attimo di pausa come questo percorso in treno subito montiamo quello che abbiamo girato poter essere in onda a fine giornata ma è mica male come nel studiolo di Montaglio ma con una sedia dobbiamo parlare contro l'italia il tempo sta peggiorando